Buonasera, siamo qui a fare i lavori di asfaltazione di via Calcolaio, via Soriano e via San Francisco da Sì, lavori che faremo di notte. È una sperimentazione nuova, direi, per il sud Italia perché i lavori di notte, di solito, siamo abituati a vedere o in autostrada o nel nord Italia. Ebbene, questo è il lavoro, il grande lavoro che stanno facendo i nostri uffici comunali, degli uffici lavori pubblici, impiegati del comune di Acerra, ormai sono all'avanguardia e stiamo sperimentando anche queste tecniche per cercare di dare il meno partito possibile ai nostri cittadini. I nostri cittadini, a cui dite state tranquilli, stiamo in buone mani, dovrete solo stare a casa e preoccuparvi in questo periodo del Covid. E a proposito di questo voglio dire, guardate, i contagi continuano ad arrivarmi percentuali alte solo tra i giovani, quindi vi dico, è inutile riunirsi in circoletti privati, in case private, perché se i vigili non ci possono arrivare, purtroppo lì il virus ci arriva comunque. E quindi cerchiamo di assumere comportamenti responsabili, così come deve essere la responsabilità dei momenti difficili. Per quanto attiene invece la nostra città, noi non ci fermeremo a fare i lavori pubblici, perché da qui a qualche tempo finalmente tutti potremo vivere la nostra città e come avete potuto vedere già con il palco pubblico, troverete sempre delle novità che faranno di Acerra una città accogliente, una città all'avanguardia. Tutti insieme supereremo questo momento e saremo ancora più orgogliosi di essere cittadini Acerra. Grazie a tutti quelli che stanno lavorando per fare queste attività, su queste strade, sempre progetti migliori. Grazie, a presto.